Non è il massimo questa luna del segno della vergine, è una luna che vi mette di cattivo umore, che vi rende anche un po' scorbutici, è una luna che crea dei contrasti con le persone che vi circondano, insomma in questa giornata sarete intrattabili, avrete un diavolo per il capello voi amici dei gemelli e ogni tanto vi capita di essere così scontenti in questo periodo in cui notate che le cose stentano proprio a decollare per quanto vi riguarda, sia sul lavoro che in amore c'è sempre qualcosa che non funziona come dovrebbe, c'è sempre un imprevisto dell'ultimo momento e dell'ultimo minuto e questo chiaramente vi mette di pessimo umore. Ecco, vi metto in guardia per questo weekend le cose che non funzioneranno e a dovere saranno molte, anche nella giornata di domenica, quindi preparatevi, cercate di organizzarvi anche da un punto di vista mentale e psicologico, poi le cose sono destinate a migliorare nettamente, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte che già in estate, ma da settembre e dall'autunno per voi ci sarà una rinascita gravorosa, amici dei gemelli intanto dovrete fare i punti con questi piccoli imprevisti. Andiamo al carico.